Nome? Mio nome è Goran. Soprannome? Yurji. La prima cosa al mattino? Prendo caffè. L'ultima la sera? L'ultima la sera vai con mia figlia in asilo. Il tuo ricordo di infanzia? Tu gioca sempre. Ricordo di scuola? Tu leggere tanto. Il più bello ricordo della tua vita? Dopo mia figlia a bordo. Il peggiore? Il più brutto? Ma no, niente. Cibo preferito? Tutta la zuppa. Cosa non manca mai nel frigo? Sempre yogurt e gelato. Il tuo idolo? Toni Kukoc. Il canale tv preferito? Sky TV. L'ultimo libro letto? Un Slovenia libero. Colore? Blu. Numero? Quattro? Attore. Attore? Tom Cruise. Attrice? Giulia Roberts. Film? Anche un ultimo Stoveno, ma mi piacciono tutti i movie. Musica? Tutto, mi piacciono tutti, anche gli italiani. La tua macchina? La tua macchina? La macchina dei tuoi sogni? Ma no, non ho una macchina. Mi piacciono tutte piccole macchine. La città più bella? La città più bella? La città più bella? Milano e Barcellona. La vacanza ideale? La vacanza ideale per me è di prendere un po' e andare a cruise con la barca. Mazzola. Volei stringere la mano al Tigers. Questo non dici le abby. Mason Mandela. Vorrei andare a cena con? Con ... Michael Jordan. Il giocatore non dimenticato. Unforgotable player. Unforgotten per Michael Jordan. Il migliore giro che hai face? La più forte era Lebron James in la World Cup. Biella perché? Perché mi piace Biella e i tifosi e tutta la società. Se non avessi giocato a basket? Gioca a basket! Il tuo sogno? Ho fatto tutti i sogni. Ho giocato a basket, è stato il mio sogno.